A trarre investimenti esteri in Italia non significa viaggiare per il mondo per raccontare quanto è bello il nostro paese, significa piuttosto creare una rete di imprese che risulti attrattiva per potenziali investitori stranieri. A dirlo è il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che infatti ha siglato un protocollo d'intesa con il governatore toscano Enrico Rossi e con l'Agenzia per la promozione delle imprese all'estero, non tanto per aumentare il numero di multinazionali sul territorio regionale che attualmente sono 484 e generano poco meno di 20 miliardi di fatturato, quanto piuttosto per spingere quelle che ci sono a investire di più, in particolare nei settori della farmaceutica e della moda. Allora voi vedete che tra la farmaceutica e la moda c'è due esempi molto diversi di tipologie di attrazione di investimenti, uno è Greenfield, far venire qui nuovi laboratori, nuovi centri di riproduzione utilizzando le leve esistenti in sviluppo e i network che si costruiscono, dall'altro lato quello viene chiamato brownfield, cioè attrarre capitale di crescita su una base che già esiste per poi farli diventare grandi brand internazionali. Il governo intende sperimentare questo modello in Toscana e, se funziona, estenderlo poi alle altre regioni. Mano a mano che ci sono investitori che si avvicinano all'Italia, se si avvicinano a livello nazionale, noi siamo riferimento per il livello nazionale per accorrere gli investitori. Mi verrebbe da dire un po' con la stessa funzione che a volte abbiamo svolto noi verso i comuni e verso le province quando abbiamo avuto altri investitori che sono venuti in Toscana. In particolare dal 2011, quando è nato l'ufficio regionale per l'attrazione degli investimenti, che ha raccolto 95 manifestazioni di interesse, di cui 44 si sono trasformate in un miliardo e mezzo di euro piovuto sul territorio, che ha creato 3.352 nuovi posti di lavoro.